Vai, 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 sei un angelo che le ami, questo avrà, vai su, guarda l'alto che lo sa che ti ha ferito. Vai, 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 sei un angelo che le ami, questo avrà, vai su, guarda l'alto che lo sa che ti ha ferito, ma sa che non potrà, farlo mai più, farlo mai più, farlo mai più, Luca, il tuo successo è qua. Bravo Luca, bravo Luca, votatelo l'SMS, il personaggio particolare in SMS è lui, il personaggio del mese di gennaio, complimenti e tanti auguri, speriamo che veramente abbia tanto successo, grazie a Luca Marris.